Mi ha trovato benissimo, c'è un gruppo di persone che si vede che sono tutti bravi ragazzi e niente, penso che anche mi ha aiutato che Gaston, anche Edgar, che sono della mia nazionalità e niente, quello ti aiuta anche a stare meglio, a sentirti bene e dopo in campo anche perché per un attaccante come sono io, l'idea che ha la squadra, penso che è molto divertente per me e mi piace tanto come si lavora anche in allenamenti. Ho fiducia in me stesso e voglio giocare come tutti i miei compagni e dopo è una lotta sana che si fa per giocare in campo. Io sono, la mia caratteristica massima penso che è la velocità e dopo che sono un attaccante che sempre le piace andare in porta, la profondità verticale si può dire. Io stavo aspettando un'opportunità, si stanno vedendo qualche squadra ma quando è uscito questo di Pescara la verità è che mi è piaciuto tanto perché è un grande club e penso che è un'opportunità bellissima. Senza dubbio, giocare di più e anche segnare di più, per un attaccante quello è lo più importante, no? E dopo in queste club devi puntare ad andare in Serie A. Non so, magari ho avuto un po' di sfortuna, in qualche caso, tipo giocando, magari sbagliare un gol o qualsiasi caso che è successo e non ho potuto sfruttare al massimo giocandolo. Grazie. Grazie a tutti.